Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono Lory e ben ritrovato alla top 5 del suddubico Overo la top 5 composta dalla vostra in uniclip che ci mette su delle settimane in questo periodo Questa top 5 è gentilmente sponsorizzata da Opacitaia, link in info in descrizione Ragazzi vi ringrazio veramente tutti perché questa settimana ci sono arrivate 5 clip veramente fantastiche Due dei quali addirittura sono già su Black Ops 3 Quindi direi di non perdere altro tempo di partire subito con la quinta posizione che ce la porta la Nemesis Che si trova su questa bellissima mappa in Nevada della quale non mi ricordo purtroppo il nome Con un HVK nelle sue mani prende la prima kill con la quale sblocca questa streak Che è molto simile all'attacco fulmine di Black Ops 2 La tira verso il centro della mappa mentre che aspetta che la streak faccia effetto Prende un'altra kill sempre con l'HVK Si avvicina verso il lato destro della mappa E qua la streak inizia a fare effetto e ha preso già 4 nemici dopo i quali ne prende altri 2 Quindi fa un full team 6 kill con una sola streak Veramente una clip molto carina La quarta posizione troviamo High Speedy che si trova su Black Ops 2 Nuketown Ci porta un doppio instant swamp con una 5-screen appunto con un XPR Con un ballista tutte e due con i mirini dermici veramente una clip molto bella Alla terza posizione ci troviamo Mist che si trova su Raid Ci porta anche lui un instant swamp 5-screen verso la fine della partita Sempre su The Adventure Squadra questa volta però appunto su Raid C'ha un ballista nelle sue mani Switcha l'XPR e prende appunto gli ultimi nemici con il quale conclude la sua 5-screen Alla seconda posizione ci troviamo Pred che si trova su Black Ops 3 Ci porta veramente una clip fantastica Si butta fuori da questa finestra Fa un sacco di giri Fa un 1440 Spara un no scoop con questo cecchino E conclude questo trickshot veramente fantastico su Black Ops 3 Io non avevo ancora visto trickshot su questo gioco Ci siete già riusciti, siete veramente bravissimi Alla prima posizione ci troviamo a Shift H3 Che si trova su MU2 addirittura Con il TAR equipaggiato con il fucile a pompa Come avete visto ha fatto veramente una strage Alla fine della quale ha fatto una 6-screen veramente assurda E per questo abbiamo deciso di rimettere alla prima posizione Niente ragazzi qua la top è finita Io spero che vi sia piaciuto Se è così tarciate un commento che vi piace Commentate, iscrivetevi se volete passare la pagina in Facebook Niente ragazzi ho finito, ciao a tutti Ho una ciolla che sembra un bazzucca nella tuta Non ti piacciono i GTF Non ti ammazzati Figa sparati Quando arrivo devi farmi passare